Cosa sono le maschere antigas? Le maschere antigas sono dispositivi aderenti progettati per proteggere chi li indossa dall'esposizione a pericolosi batteri trasportati dall'aria, virus, sostanze chimiche e veleni vaporizzati. La maggior parte delle maschere antigas sigillano naso e bocca per proteggere le vie respiratorie, ma alcuni modelli includono occhiali protettivi e cappucci pieni. Le maschere antigas non devono essere confuse con maschere ad ossigeno o maschere da sub, che importano aria fresca da un serbatoio chiuso. Le maschere antigas filtrano l'aria esterna come esiste, senza l'aggiunta di nuovi gas respirabili. Nessuno inventore può rivendicare il disegno originale della maschera antigas, sebbene molte fonti diano maggior credito a un soldato afroamericano che lavora durante la Prima Guerra Mondiale. I soldati esposti ai veleni dispersi nell'aria spesso urinano su un panno e si coprono la bocca e il naso con esso. L'ammoniaca nelle urine neutralizzerebbe chimicamente il gas di cloro comunemente usati sul campo di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale. Ulteriori raffinamenti creavano maschere antigas capaci di filtrare o neutralizzare agenti nervosi più avanzati come il gas mostarda, ma l'uso della guerra chimica era notevolmente diminuito all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. I soldati avrebbero regolarmente scartato le loro maschere antigas una volta assicurato il campo di battaglia. Le maschere antigas proteggono l'utilizzatore attraverso tre metodi separati. Molti inquinanti hanno particelle più grandi dell'ossigeno e degli atomi di azoto, quindi la prima linea di difesa è la filtrazione. La maggior parte delle maschere antigas utilizza un filtro sostituibile con una rete estremamente fine per bloccare fisicamente le particelle in ingresso come polveri o polveri contenenti virus. Il problema principale con un tale sistema di filtrazione è che qualsiasi maglia abbastanza stretta da bloccare le particelle microscopiche limiterà anche il flusso di aria pulita. L'indossatore potrebbe non sentire abbastanza aria respirabile disponibile con il filtro in posizione. Un altro mezzo di purificazione dell'aria nelle maschere antigas è l'assorbimento. Veleni liquidi e veleni vaporizzati possono essere allontanati dalle vie aeree dell'utente da sostanze chimiche assorbenti come carbone attivo. Questi prodotti chimici assorbenti possono essere conservati in un contenitore sotto la camera di respirazione o impregnati nel filtro. Lo svantaggio principale del metodo di assorbimento è il numero limitato di gas velenosi che potrebbero essere attratti dalle sostanze chimiche. Questi tipi di maschere antigas sarebbero di grande aiuto in un ambiente di fabbrica in cui l'inquinante era un'entità nota. Il metodo finale di purificazione dell'aria utilizzato nelle maschere antigas è la neutralizzazione chimica. Questo è ciò che i soldati della Prima Guerra Mondiale stavano facendo con le loro mascherine di ammoniaca fatte in casa. Un contenitore contenente una sostanza chimica o un gas è attaccato sotto la piastra del viso e i fumi interagiscono con il veleno in entrata, rendendolo chimicamente neutro, o almeno innocuo per la respirazione. Questo metodo è ampiamente utilizzato in situazioni in cui è possibile la guerra chimica. Il principale svantaggio è l'atmosfera home postgradevole creata dalla gente neutralizzante. Le maschere antigas sono disponibili al pubblico attraverso negozi di forniture mediche, operazioni militari in eccedenza e rivenditori specializzati. I lavoratori che potrebbero essere esposti a fumi pericolosi sono invitati a indossare una qualche forma di maschera antigas per proteggere i loro sistemi respiratori. Per le situazioni di esposizione a lungo termine, tuttavia, un sistema respiratore autonomo con una fornitura di aria fresca può essere più utile.